4k 60 fps facciamo due passi c'è la stabilizzazione attiva si può anche disattivare ma non vedo veramente perché uno dovrebbe farlo e devo dire che dall'anteprima la qualità sembra tutto sommato buona la qualità della stabilizzazione quella del video mi servo poi di riguardarlo per bene al computer ciao